Ragazzi buongiorno a tutti e bentornati su Crypto Salad, io sono Federico, oggi ultimo giorno del mese di gennaio, Bitcoin 37.300 dollari in questo momento, ragazzi guardiamo com'è la situazione, cerchiamo di capire come Bitcoin entra tra poche ore nel mese di febbraio, guardiamo il grafico anche di Luna che sta subendo un importante ritracciamento nell'ultima settimana e cerchiamo di capire se questo potrebbe essere un buon momento per acquistare Luna, soprattutto per il medio-lungo termine, voglio mostrarvi poi un indicatore che dà dei segnali operativi che io utilizzo con denaro reale ormai da qualche settimana che sta dando ottimi risultati, ho aspettato un pochino a parlarvene perché volevo testarlo personalmente e poi ragazzi guardiamo insieme un tweet di un trader molto rispettato che parla della situazione attuale di Bitcoin. Quindi ragazzi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche, lasciate i vostri messaggi e ovviamente sempre grazie di cuore per il vostro supporto continuo. Ragazzi guardiamo insieme la situazione, dicevamo Bitcoin poco sopra il 37.000 e 3, un piccolo ritracciamento tra ieri sera e questa mattina. Allora commentavamo la possibilità che Bitcoin fosse rientrato all'interno di questa formazione che è un falling wedge, quindi una formazione che vede il prezzo scendere, ma nella maggior parte dei casi vede la violazione della resistenza ed effettivamente un breakout rialzista. In questo momento sembrerebbe che Bitcoin sia rientrato all'interno della formazione e stia provando proprio a trovare supporto sulla medesima trendline che prima aveva proprio rappresentato del supporto per Bitcoin. Quindi chissà che Bitcoin riesca eventualmente a trovare supporto e poi violare effettivamente la resistenza. Io credo che una volta che Bitcoin riesca a violare questa resistenza e confermarla anche con una chiusura magari giornaliera, siamo pronti per vedere un breakout rialzista perlomeno di breve termine. Parlavamo ieri della possibilità, guardando i livelli di ritracciamento di Fibonacci, che Bitcoin addirittura durante questo rimbalzo possa spingersi fino allo 0,6151.900 o eventualmente lo 0,547.800. Ovviamente ragazzi fin tanto che Bitcoin non viola questa trendline la visione rimane, continua ad essere ribassista e può essere che Bitcoin torni a ritestare il minimo a 33.000 dollari. Se guardiamo infatti quanto ha accaduto in passato per Bitcoin, vediamo che ogni volta che Bitcoin ha trovato un bottom, quindi un fondo, ha ritestato più volte lo stesso livello. Lo possiamo vedere durante il 2021 in questa circostanza. Ci sono stati due barra tra i contatti in zona 28-29 e anche in questa circostanza guardate quante volte Bitcoin ritesta lo stesso livello, addirittura qua con una spring, quindi una chiusura sotto il livello e poi un rimbalzo prima di ripartire. Quindi nella maggior parte dei cosi Bitcoin adora ritestare il minimo o addirittura fare un minimo leggermente più basso creando una divergenza. Quindi in questo momento la maggior parte del mercato si aspetta perlomeno un ritest del livello dei 33.000 dollari prima di una eventuale ripartenza. Guardiamo poi i livelli pivot, che è un po' che non guardiamo insieme. Questi sono i livelli del mese di gennaio. Abbiamo avuto un prezzo sotto il livello P, non siamo più riusciti a tornare sopra il livello P, siamo andati a finire ad S1, abbiamo violato S1 e siamo arrivati molto vicino ad S2, quindi il supporto numero 2 per il mese di gennaio. Quindi può essere che se Bitcoin dovesse scendere ulteriormente potremmo avere un contatto anche con il livello S2 31.000, anzi 32.000 dollari quasi spaccati. Quindi eventualmente dovessimo perdere i 33.000 temporaneamente potremmo fare un veloce rimbalzo in zona 32 per poi eventualmente continuare al rialzo. La mia sensazione personale è che Bitcoin non perderà, perlomeno per adesso, il livello dei 30.000 dollari come punto di macro supporto. Questo avverrebbe solo se chiudessimo eventualmente candele settimanali o addirittura mensili al di sotto di questo minimo qua, magari supportato con dei volumi. Quindi chiusura mensile sotto i 29.000 e i 28.000 con supporto di volumi decisamente molto negativo. Personalmente non credo che succederà e siamo vicini ad un bottom per Bitcoin. Vi faccio vedere i livelli PV del prossimo mese. Il livello PV del mese di febbraio si trova a 39.003. Quindi ragazzi fin tanto che guardando questi livelli orizzontali statici, fin tanto che Bitcoin non si posiziona sopra il livello PV per il mese di febbraio, 39.004, vuol dire che teoricamente dovremmo aspettarci che anche il mese di febbraio sia negativo. Quindi un conto se Bitcoin riesce a risalire, trovare supporto e salire o eventualmente resistenza e poi di nuovo andiamo verso i livelli S1, S2 ed S3 del mese di febbraio che vi mostrerò nel video di domani. Guardiamo poi ragazzi le situazioni di Luna. Luna ha fatto un all time high, un progetto intorno al cui c'è un sacco di hype e all time high di Luna 100 dollari all'incirca, ritracciamento importantissimo perché dall'all time high Luna ha perso più o meno col minimo il 57%. Quindi numeri davvero importanti da piena correzione. È assolutamente normale, Luna valeva pochi dollari, credo qualche mese fa, quindi già incredibile il rialzo. Che ha fatto questa cripto, quindi si tratta comunque di un ritracciamento tutto sommato normale se si allarga la visione su Luna. Quello che possiamo vedere è che questo livello può essere importante come punto di supporto. Abbiamo un livello di controllo, un punto di controllo a 36009. Se prendiamo questa zona di trading, quindi all'interno di questa zona, quindi direi tra i 45 e i 30 dollari, Luna potrebbe trovare del supporto, quindi eventualmente scendere ancora, testare il punto di controllo, magari fare un doppio minimo e poi eventualmente risalire. Quindi può essere benissimo che Luna possa scendere fino ai 37-30 dollari. Logicamente l'andamento di Luna può dipendere dall'andamento di Bitcoin. Se Bitcoin dovesse vedere un breakout rialzista, probabilmente vedremo anche un relief rally temporaneo da parte di Luna. Comunque credo che tra i 37, tra i 40 e i 30 dollari sia un buon livello di accumulo per Luna in un'ottica di medio-lungo termine. Se il progetto vi piace ragazzi, poi vi parlo come dicevo di questo indicatore, si chiama Lux Algo. Il video non è sponsorizzato da Lux Algo, ma io utilizzo questo strumento, quindi nel caso in cui voleste utilizzarlo anche voi c'è un referral link che trovate in descrizione. Molto apprezzato se voleste utilizzarlo e includeremo questo indicatore regolarmente nelle nostre analisi. Questo che vi mostro è il grafico di Bitcoin, molto semplice, c'è solo l'indicatore Lux Algo Premium, vedete qui. Comporta dei livelli premium logicamente a pagamento, ma come dicevamo in maniera completamente gratuita vi mostrerò i segnali direttamente sul canale. Se non volete aspettare il mio video vi consiglio eventualmente di fare un'iscrizione. Allora ragazzi, come funziona questo indicatore? Molto semplice, col tempo vi farò vedere come si può perfezionare. Qua siamo sul grafico delle 4 ore, funziona su qualunque tipo di time frame, ma logicamente utilizzando i time frame più ampli, quindi le 4 ore o giornaliero, i segnali sono più affidabili e c'è meno cosiddetto chop, per cui il prezzo tende meno a dare dei segnali falsi, questo indicatore, segnali sbagliati. Allora come funziona? Abbiamo i segnali di sell, che sono questi qua contrassegnati in rosso, che sono sell oppure strong, mentre sono i segnali di buy, che sono buy oppure strong. Quindi il rosso molto semplice rappresenta un sell, quindi vendere o eventualmente shortare, il buy vuol dire comprare o eventualmente andare long. E invece le X che vedete sul grafico, queste qui, sono invece il take profit. Vediamo come ha performato questo indicatore, eventualmente preso dal 30 settembre scorso, qua ci segnalava un buy, vi ricordo che il segnale arriva alla chiusura della candela, quindi dovete contare evidentemente questo prezzo qui, quindi qua ci sarebbe stato un acquisto o eventualmente un long, qua un take profit, e prima del sell eventualmente un secondo take profit in questa circostanza, poi uno short qui, un take profit in questa circostanza, quindi un segnale che dà profitti, quindi qua long, qua eventualmente short, si va short fin qua, qua c'è un altro buy, questo invece è un segnale in perdite perché poco dopo arriva uno short, si va giù un take profit, un altro take profit dello short, quindi si prende i profitti con lo short, e poi un altro buy, che è un segnale però sbagliato, e un altro short in questa circostanza, quindi in questo momento Luxalgo ci sta dicendo che siamo in una fase ribassista, quindi vogliamo aspettare eventualmente per un rimbalzo un segnale buy o strong buy all'interno del grafico delle 4 ore, quindi monitoreremo insieme regolarmente questo indicatore, vi faccio vedere anche alcune modifiche che potrete apportare, o altri indicatori che potete utilizzare per migliorare la performance con questo indicatore, fatemi sapere che cosa ne pensate, lo guarderemo insieme direi tutti i giorni, quindi in questo momento siamo in una situazione di strong sell, con bitcoin che si trova a 37.000 e uno short che è entrato in zona poco al di sopra del livello attuale, intorno ai 38.600, quindi sarebbe un short in profitto. Guardiamo poi ragazzi questo ultimo tweet da parte di Peter Brandt, oggi un sacco di carne al fuoco, interessante cosa dice, questo è un trader molto stimato sia sui mercati finanziari ma anche ultimamente sulle cripto, che dice, che ritiene affascinante come sui social media, chi metteva, vi ricordate che chi mette gli occhi con dei laser, sostanzialmente quando bitcoin era intorno ai 60.000, tra e prevedeva che bitcoin sarebbe salito fino ai 100.000, praticamente la previsione che facevo io, ma almeno ho avuto la decenza di non mettere gli occhi a forma di laser. Comunque lui dice che tutti coloro che ritenevano che prima bitcoin tra marzo e aprile salisse fino ai 100.000, avevano gli occhi da laser, adesso praticamente le stesse persone ritengono quasi tutte che bitcoin romperà il livello dei 30.000, quindi uno shift di visione completamente diverso tra marzo e aprile ed oggi, quindi lui ritiene che sia un interessante segnale di acquisto o di vendita, quindi quando i bulls, quindi i rialzisti, mettono gli occhi a forma di laser, è il momento buono per andare a vendere, quindi quando c'è estrema bullishness, mentre invece quando i bulls diventano bearish, quindi coloro che prima ritenevano che ci fosse una grande salita, adesso pensano che bitcoin violerà i 30.000, è invece un buon momento per andare a acquistare punto di domanda, quindi lascia l'interrogativo aperto. ragazzi per oggi è tutto, grazie per la vostra attenzione, spero che il video sia stato utile, noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao!